Quella del Vibrata Tronto è la prima area di crisi complessa interregionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la richiesta avanzata sia dalla Regione Abruzzo che dalla Regione Marche. In queste aree di crisi industriali complesse del sistema locale del lavoro, sulla base di accordi di programma, si convoglieranno le procedure più veloci e gli interventi dei fondi della Legge Nazionale 181, oltre ai finanziamenti derivanti da altre misure, ad esempio i FAS gestiti dalla Regione. Ora c'è l'applicazione di quanto la Legge 181 contiene in termini di sostegno alle attività delle imprese, ma anche in termini di infrastrutture collegate al sostegno alle attività. In modo particolare noi lì abbiamo inserito il completamento della Piedemontana. Poi ci sono i soldi che metterà la Regione con il nuovo FESR per le aree di crisi, 23 milioni di euro nel nuovo FESR e poi ci sono altre possibilità che comprendono anche opportunità per il lavoro. Il risultato è stato dedicato all'ex presidente della provincia di Teramo recentemente scomparso Ernino D'Agostino, che per primo aveva creduto in questa possibilità. Quello dell'area di crisi complessa Vibrata Tronto è un risultato molto atteso soprattutto dal mondo imprenditoriale e sindacale, oltre che da quello istituzionale. Infatti alla conferenza stampa erano presenti i sindaci della Vibrata, il presidente dell'Unione della Vibrata Leandro Polpastrelli, il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone e il presidente della Camera di Commercio di Teramo Gian Domenico Di Sante. È un segnale importante che fa tornare la fiducia e la fiducia è una componente direi decisiva in questo processo di cambiamento, di innovazione, in questa nuova stagione che dobbiamo promuovere perché la provincia di Teramo torni agli antichi splendori.